Da Cirano a Marlow, da Otello al Feroce Saladino, e oggi sono Nino Castelnuovo. Certo un po' di moto è importante per me, come per tutti. E a tavola c'è olio cuore che mi aiuta a stare in forma. Olio cuore, dal cuore del mais è un olio di semi di mais dietetico. Olio cuore, saporito, leggero, gustoso, ti dà tutto il sapore del mais. Olio cuore. Mangiar bene per sentirsi in forma.